Comincerà il 15 febbraio la campagna di prevenzione dei tumori naso-faringo-laringei della Lilt e anche nella sede nissena sarà possibile prenotare tramite apposito link una visita fino al 28 febbraio 2022. La campagna si rivolge ai fumatori proprio perché il 75% dei carcinomi della testa del collo è causato dal fumo di tabacco e dall'abuso alcolico con un effetto sinergico, si legge nella nota. Le evidenze clinico-scientifiche ci insegnano, prosegue, che una tumefazione del collo che persista per più di tre settimane è da considerarsi sospetta per patologia neoplastica primitiva o secondaria. Anche in questi casi dunque la parola chiave è prevenzione. Per evitare che la patologia venga diagnosticata troppo tardi, cosa che accade purtroppo spesso, più della metà dei casi infatti pari arrivi alla prima diagnosi della malattia localmente avanzata o metastatica. Riconoscerla invece già negli stadi iniziali permetterebbe di aumentare le possibilità di sopravvivenza. Il tasso indicato dalla Lilt infatti è dell'80-90%. La diagnosi tempestiva di una metastasi cervicale, si precisa ancora, è raccomandata perché il ritardo peggiora lo stadio e la prognosi della malattia.